salve a tutti amici youtube sono io battle kurama oggi vi mostrerò una piccola versus dei melting blood purtroppo da solo perché non ho non ho nessuno però aspettate che salgo un attimo l'audio anzi mettiamo tutto a 5 così così sentite anche meglio la mia voce allora vi mostrerò una piccola versus su melting blood utilizzerò lei poi quando sarà il momento vi parlerò un po meglio del gioco perché ancora non so ancora bene la storia del gioco quindi bene parlerò meglio sto giocando con tastiera con con joystick allora per prima vista mi pare un una meccanica che ho visto da un altro gioco no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, non posso parlare ragazzi perché sono abbastanza concentrato in partita perché... Ragazzi questa è una piccola prova di melting blood se il video vi piaccia... E... Questo è un personaggio abbastanza bello da usare anche se spam... Io non sono ancora bravo a fare il combo... Vi farò vedere se volete qualche arcade mode che sarà abbastanza complicata... Vi auguro di mettere molti mie piatti... Grazie a tutti.